Grazie Presidente, può chiamarmi anche terrorista se preferisce, non c'è problema. Non ho capito. Perché mi è stato detto che il mio atteggiamento sarebbe da terrorista. Lei ha espresso opinioni, ha espresso posizioni, l'ha espresso il collega Galante come l'ha espresso il collega Rosi. Volevo dire che non mi offendo, se mi si chiama terrorista... Prego, collega Perrivo. Allora io da terrorista quale sono? Volevo precisare una cosa, che questi dati sono stati estratti dalla fonte, cioè la fonte del Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda la Basilicata, attenzione, cioè questi sono proprio relativi alla Basilicata, le estrazioni di gas naturale negli anni dal 2004 al 2012 e questi invece sono dei dati la cui fonte è l'SDO del Ministero della Salute. Allora se si dice che questi dati non sono dati scientifici ma sono inventati da chissà chi, questo è uno studio condotto dal professor di Ciaula di Medici per l'Ambiente, ISDE si chiama l'organismo, e sono dei dati scientifici, se mi si dice che non sono scientifici ma lo si deve dimostrare a questo punto, mi si deve dire guarda tu hai taroccato i dati, hai preso dei dati falsi e sei venuto qui a dire che c'è un indice di correlazione tra l'aumento delle estrazioni e l'aumento delle patologie tumorali. Sarò ben lieto di ammettere di aver sbagliato. Ad ora vi posso dire che questi sono dati scientifici e che spero che anche un registro di tumori aggiornato potrà in qualche modo dimostrare. In più volevo anche dire, per continuare l'opera di terrorismo, che tra il 2007 e il 2011 in 5 anni 204 bambini lucani di età compresi tra 0 e 14 anni, in media 40 all'anno, circa 3 al mese, si sono ricoverati per tumore maligno. Allora, il terrorista è chi denuncia queste schifezze o chi in tutti i modi tenta di coprire la verità? Per me sono i secondi terroristi.